Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu, ma come cavolo fate a non capire cosa vuol dire? Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia. Nel suo messaggio su Instagram, Francesco Sarcina continua, ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura, quale è sempre stata. Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito i due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole. Giulia, la donna che nel 2003 ispirò una delle canzoni più amate delle vibrazioni, dedicato a te, primo singolo dall'album di debutto del gruppo, è venuta a mancare. Francesco Sarcina ha comunicato la triste notizia attraverso una lettera commossa pubblicata sui social, ricordando l'importanza di Giulia non solo per la sua musica, ma soprattutto per la sua vita. Il post è accompagnato da un fermo immagine del video ufficiale della canzone, dove Giulia era stata interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia. Il frontman delle vibrazioni conclude con queste parole, e se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra, lascia insieme a noi un messaggio di profondo cordoglio. A presto.